Oggi nel circo del globalismo abbiamo come ospite di onore il ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock che ormai è diventata un classico di questa sezione. La Baerbock rispondendo alla domanda se l'Ucraina potrà mai essere sicura fin tanto che Vladimir Putin rimane al potere ha risposto se la politica di Mosca non cambia di 360 gradi no. Il vice presidente del consiglio di sicurezza della federazione russa Dmitry Medvedev ha commentato su twitter è davvero divertente che l'Europa sia comandata da persone così ignoranti. Annalena Baerbock ha detto che sarebbe felice se Mosca ribaltasse la sua posizione di 360 gradi cioè la mantenesse come ora conclude Medvedev dicendo non abbia timore signora esperta in geometria sarà così rimarremo sulla nostra posizione. Questa marionetta del globalismo appartenente al partito dei verdi tedeschi aveva già raggiunto una certa notorietà per aver affermato che il suo governo avrebbe inviato armi all'Ucraina a prescindere di ciò che i suoi votanti pensassero a questo riguardo e anche per aver sottolineato l'importanza dei carri armati nelle guerre dell'Ottocento. Ma sono state le sue dichiarazioni di fronte all'esemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo dichiarando apertamente la guerra alla Russia quelle che hanno evidenziato chiaramente l'inadeguatezza della Baerbock per svolgere un ruolo così importante. Ma non tutto sono incompetenze. Annalena Baerbock sa fare alcune cose molto bene per esempio spendere i soldi dei contribuenti. Secondo svela il giornale svizzero di Weltwoche, la Baerbock, ministro degli esteri della Germania, avrebbe speso l'anno scorso la somma di 136.500 euro in cosmetici, prodotti di bellezza e servizi di estetista. Insomma, la Baerbock è un noto membro della mandria di Davos, quelli che vivono alla grande dai soldi del contribuente ma che poi ci dicono di farci la doccia con acqua fredda o di escaldarci a schiafi per porre soltanto un paio di senti. Toggerò 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 Grazie a tutti. 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 Okay, so now these flowers here, we're going to place here. Watch out for the bushes. And they're going to put in the water. And they're going to put in the water. And some also reminds us that we have protection. ...viela ehtii, vaikka sitten Sanova-talolle, jos ei tähän kulkuei se. Mukava olla täällä, kyllä, ja olin MKR-tapaamisessakin. Kiitos kun katsoit videon! Kiitos kun katsoit videon! Kiitos kun katsoit videon!